Come far coesistere le bellezze di una riserva regionale e la cultura di popoli diversi. Di questo si è parlato al convegno che si è tenuto nei giorni scorsi presso il Centro di Educazione Ambientale Antonio Bellini di Penne. Tra gli obiettivi delle riserve regionali non c'è solo quello della salvaguardia della biodiversità, così come ci spiega Serena Ciabò, Ufficio Parchi di Regione Abruzzo. Ma da sempre rivestono anche un ruolo sociale. In primis con l'educazione ambientale, attività didattica che gli operatori delle nostre riserve hanno sempre svolto e poi pian piano un'attività sociale che in senso lato vuol dire anche accoglienza e sicuramente in questo frangente è un'attività del tutto meritevole. L'arrivo presso il CAS Lapis di 40 ucraini è l'ultimo in ordine di tempo di un sistema di accoglienza messo su dalla cooperativa Cogextre che dall'agosto 2015 ad oggi ha ospitato 612 beneficiari. La multiculturalità degli ospiti porta tante volte a dinamiche sociali complesse e così la natura e le aree protette spesso possono tendere una mano verso la coesistenza pacifica. Perché crediamo che l'ambiente sia più facile gestire dinamiche sociali complesse all'interno di un ambiente naturale dove ci sono meno fenomeni di marginalità sociale che possiamo trovare invece nei grandi agglomerati urbani. Presente il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, il quale ha sottolineato che quella avviata dalla cooperativa Cogextre è sicuramente la sfida del futuro. La sfida del futuro sarà questa, quella di valorizzare l'ambiente al tempo stesso in un'ottica inclusiva dove la coesione sociale viene letta in una dimensione moderna integrando i nuovi arrivati con un approccio nazionale e costruttivo. Noi vogliamo che Peni diventi la città destinazione della costa. Ci candidiamo a diventare il centro storico della nuova Pescara e questo credo che rappresenti un punto nuovo rispetto ad uno sviluppo non solo sostenibile ma anche uno sviluppo turistico dell'intera area vestina. Noi dobbiamo far sì che anche Peni possa diventare da traino rispetto anche agli altri centri dell'area vestina. Grande successo infine per il docufilm L'Anima era nel vento. Un viaggio inedito nel nuovo modello di sviluppo armonico dell'area vestina e che dai prossimi giorni potrà essere seguito anche su TV6 al canale 13 del Digitale Terrestre.